Ok, Lorenzo mi ha mandato un'email Peppe Fedish Vi sembra un'email normale? Questa qua Ditemi voi, eh No, vi sembra un'email normale questa? Niente, invito ad un'orgia fra familiare a Natale Invito ad un'orgia fra familiare a Natale Ecco il link del gruppo Whatsapp Non mi va! Altre prezzo di 100 bits Me l'hai mandati, ok Foto cazzo E mi è arrivata una foto del cazzo Una foto del cazzo in mano Non fate mandarmi queste schifezze